26 luglio. Siamo asserragliati in una fattoria vicino a Marigny. Chiudo gli occhi per pensare a Aesel, ma rifaccio quel sogno. Red, premi il gremetto! Solito sogno, eh? Più o meno. Sì, continuo a tormentarmi. Sto bene ora, riposo un po'. No, Pearson deve capire che sono pronto. Non mi interessa cosa dice, non hai niente da dimostrare. Già, ma sono stanco di lui. A casa mia, quando c'è un problema, lo si prende di petto. È il solo modo di farsi rispettare. Ti capisco. Devi credermi. Un uomo deve affrontare le sue battaglie. Ma il rispetto non serve a nulla se ti fai ammazzare. Per fortuna c'eri tu a coprirmi. E poi c'è il vecchio San Michele che veglia su di noi. Quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. Non sapevo che credeste in quella roba. Non rifiuto nessun tipo di aiuto. Vuoi parlarmi del sogno? O no? I lupi ci uccidevano al bestiame. Io e mio fratello Paul gli davamo la caccia quando ci hanno accerchiato. Rai, prendi il grilletto! Ci sto provando! Ok! Tutto a posto? Mi dispiace, Paul. Ascoltami, ragazzo. È naturale avere paura. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Da quel giorno mi ripromesi di non deludere mai più Paul. Ora non si tratta solo di convincere lui, ma anche Pearson. Allo riparo! Turner guiderà il grosso delle truppe nella piazza! Noi dovremmo dare fuoco di copertura da quella chiesa. Domande? Bene! Io ne ho una! Risparmiatela e avrai una stella d'oro. Andiamo! Sono il suo preferito! Esce da uno scoperto! Guarda la costana! Mi serve copertura a sinistra! Tutti gli altri a destra! Prendiamo quella casa! Avanziamo! Di copro! Tieni, tieni giù la testa! Esce da uno scoperto! Fuoco! Provo con una granata! Vado! Ti copro la spada! Camionette tedesche! Si stanno ritirando! Casa sotto controllo! Alla chiesa! Cazzo! Altri lungo la strada! Lancio una granata! Granata fumogena! Trucchi allo scoperto! Noi! Mi vedo! Cazzo, cazzo! Mi segnalarei! Però dai, non mi rimorrai! Sentito! Sei vicinforato! Prendo di paro! Chiudi! Poissima, ti aiuti! Là fuori ci sono dei feriti! Portali in salvo! Spenyers! Trascinali via da lì! Ti copro io! Non posso camminare! Non ti lascio qui! Hanno bloccato l'intera strada! I fumogeni sono l'unica soluzione! Tieni duro! Fumogeno! 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 Nord-est! È morto! Amico in movimento! A sud-ovest! Nemici in arri... Daniels, la mitragliatrice del semi-cingolato! Spregniamoci! Grazie! Ci penso io! Fuori dalla bellissima! Ci penso! Va! È scolato! Scolato! Truppe nemiche! Butto una granata! Tiro una granata a fumogeno! La strada è libera! Ok, Daniels! Ci penso alla propria! Ci sono! Daniels, la porta! Ho un kit medico! Dove sono andati? Saranno fuggiti sentendoci arrivare! Ci sono delle scorte! Riforniamoci prima di salire sul campanile! Ehi! Zeus! Perché gli ebrei non vanno in chiesa? Andiamo in sinagoga! Sina che? Merda! Itragliatrice al secondo piano! Giù! Sargenti arrivano oggi! Giù! 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 Qui, qui! State bassi e circondiamolo! Truppe nemiche! Attenzione ai fianchi! Scopritemi! Corpito! Si avvicinano da Estor! Devo ricaricare! Andiamo! Scegliamo! Scegliamo! Back up! Procediamo! Porta! Scegliamo! Soldati amici! Soldati amici! Guarda! 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 Mi domemaker! Guarda! Voorzie! Guarda! 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 Quiet! Guarda! Guarda! Miles, noi daremo supporto in cima al campanile. Per fortuna ci sarai tu là sopra. Nessuna pressione. Tranquillo, ti copro io. Ti conviene. Tutti su per le scale, andiamo! Alla scala! Spero che nessuno soffra divertiti. Cambierebbe qualcosa? No! Norsas, danni qua su! Occhi su Ziusman, pronti? Ok, si stanno muovendo! Copriamoli da qui mentre distruggono la contraerea! Trucchi all'auto in fiamme! Spara ai crucchi che bloccano la strada a Ziusman! Cecchini nell'edificio! Nemico, secondo piano! Apri un parco! Daniels, becca quei cecchini! Ancora uno! Occhio alle finestre! Hanno bloccato Ziusman! Vedessi, fianco sinistro! C'è un'altra contraerea nel cortile! Non è presidiata! Tieni la d'occhio! Sono arrivati alla contraerea! Lancia fiamme! Eccolo! Distruggi quel lancia fiamme! Assegno! Benissimo! Sì! Se l'hanno fatta! Apri un parco! Semi cingolati nella piazza! Sono in trappolo! Fuoco sulle torrette! Non male! Per fuoco! Fuoco a fuoco! Daniels, la mitragliatrice! Libero! Si avvicinano ai cannoni anti-aerei! Crucchi sui tetti! Togliamo di mezzo quelli più in alto! Ultimo! Fuoco a fuoco! Bel colpo! Daniels, crucchi in fondo alla strada! Colpito! Sei andato vicino! Si attaccano alle spalle! Semi cingolato dietro di loro! Li stanno circondando! Non si rialzera più! Che cazzo è stato? Deve essere Turner! Addosso! Scopriamoli mentre supportano Ziusman! Ziusman ha distrutto il secondo! Wuhuuu! Un ultimo cannone! Contro il verbo lo spazio aereo! Signore del motriere che sta puntando! Punti via presto! Oh, merda! Daniels! Ti prendo! Sto scivolando! No! No! Attenti! Levantemi da lì! Via da lì! Presto! Vieni tutti stanno! Muovete il culo! Oh, merda! Dai! Salta! Ho forse delle ali, soldato! No, sergente! Infatti non sono il tuo cazzo di angelo custode! Fanculo! Ho perso due ottimi soldati! Ora diamoci una mossa! E distruggiamo quei cannoni! Forza! Non vedo Ziusman! Merda! Erano insieme prima che crollasse tutto! Per ora ci conviene restare in posizione! I trucchi non devono salire qui! Ho ancora delle granate se ti servono! Eccoci! Mantenere la posizione! Forza! Diamogli copertura! Fuoco di soppressione! Ecco a te! Fuoco a parola! Tiro una granata! Il camion spara ancora! Stato! Vengono su dalle scale! I trucchi assalteranno la nostra posizione! Tenili a bada con il lancio a fiamme! Ricevuti! Crucchi! Difendere il fianco sinistro! Arrivano da su destra! Daniels, scopri stia più dentro! A sinistra! Sì, sardegno! Posizione nemica affistata! Foncini pronti! Pronto! Dobbiamo indicare la zona bersaglio ai P-47! Daniels, usa un fumagino rosso! Non me lo faccio dire due volte! Fumagino! Restrinsceteli fino all'arrivo dei P-47! Mantenere la posizione! E poi P-47! Comprare! Un rinascimento! E poi spazzatevi! Zusman! Sono vivo! Ottimo lavoro! Avete dato il massimo! Quei bastardi sono scappati! È stata un'azione ben eseguita! Non se la sono cavata tanto male, vero sergente? Forse ti sbagliavi sul loro conto? Finalmente tirate fuori le palle! Ma adesso si fa sul serio! Scopriremo di che pasta siete fatti! Anche se gli servissimo la testa di Hitler, si lamenterebbe! Combattiamo come oggi e la guerra sarà finita in un attimo! Ma per farlo dovremo superare noi stessi! Ci sono! Abbiamo conquistato Marigny! Le truppe tedesche se la stanno dando a gambe! Ma adesso siamo nel mirino di Pearson più di prima! Non so davvero cos'altro pretenda da noi! Non so davvero 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 non